In questo video condividerò uno strumento potentissimo per abbattere o diciamo diminuire quelle abitudini malsane che non ci piacciono, che non vogliamo più attuare, che vogliamo abbandonare, oh santo cielo Allora iniziamo con una preghiera, scherzo no, nessuna preghiera Tante abitudini che abbiamo nella vita ce le siamo cristallizzate perché continuamente le ripetiamo, le attuiamo Ne facciamo, ormai ci annamoriamo anche delle nostre abitudini Nella nostra comfort zona stiamo benissimo con quelle abitudini E uscire fuori ci mette un po' di disagio, ci crea un po' di tensione Ma se noi siamo qui a voler capire come abbandonare quelle abitudini perché ce ne siamo proprio rotti le scatole e vogliamo andare oltre, vogliamo andare fuori questa zona di comfort e trasformarci in qualcosa e in qualcuno Che per noi conta di più oggi Ora ti spiego come poterlo fare Cioè come poter passare da continuamente lottare contro te stesso e le tue abitudini malsane a gestire queste abitudini fino a farle sparire Iniziamo Non vuole essere una spiegazione, uno spiegone da insegnante o studente Ma una riflessione che ti voglio portare come esperienza di vita anche personale che ho fatto E' uno strumento che secondo me sperimentarlo, iniziare a sperimentarlo tutti i giorni ti porterà una nuova consapevolezza Oh non ti faccio diventare nessun supereroe con questo strumento, non diventerai supereroe con questo strumento Però da un giorno all'altro le cose non possono cambiare tra parentesi Però piccole accorgimenti ogni giorno, come si dice, qualcosa la fanno E potrai provare questo strumento che non ti servirà più così pensare di non avere modi per poter attuare un cambiamento E nemmeno soldi, perché te lo sto regalando Tra parentesi regalando, perché comunque è un costo la tua attenzione E ti ringrazio per essere qui con me Allora, andiamo alla lavagnetta, la fatidica lavagnetta per spiegarti come cavolo si fa Ad abbandonare queste abitudini malsane non funzionali nella nostra vita che abbiamo Allora, iniziamo La prima cosa che dobbiamo fare per iniziare questo strumento E' fare un elenco di tutte le nostre abitudini Che ogni giorno possiamo mettere in pratica per peggiorare la situazione Quindi, se la peggioriamo la situazione stando seduti tutto il giorno davanti alla televisione Possiamo scrivere in questo elenco puntato Stare davanti alla tv Poi, possiamo scrivere anche quello che pensiamo Se noi pensiamo continuamente Pensiamo che per peggiorare la situazione A noi serve Cioè, noi peggioriamo la situazione pensando sempre ogni giorno Che non siamo abbastanza Diciamo qui, scriviamo qui Pensare Di non essere abbastanza Se non c'è magari qualcosa in mente Fermiamoci e pensiamo Perché ce ne abbiamo tantissime cose Che possiamo fare ogni giorno per peggiorare la nostra situazione Oltre a stare davanti alla televisione Pensando di essere abbastanza Una tra tutte è quella di scrollare il telefono Una delle tante cose che vedo in tutti i miei percorsi E che le persone nel loro, appunto, elenco Che fanno, scrivono Scrollare sui social Perché effettivamente è una delle cose più Deletiere oggi Che ci portano a peggiorare la nostra situazione Quella di scrollare Di stare lì incantati davanti ai video E rile di quelli che sono online A fare cretino Oppure anche cose interessanti A fare lo spettatore in particolare Quindi scriviamo Scrollare Sui social Ok Senza che Ora ne scrivo una ventina Una trentina Come si dovrebbe fare Te ne dico solo tre Fatto questo Poi Ogni giorno Che dobbiamo fare? A parte che dobbiamo cancellare Quelli che ci sembrano assurdi Se avete scritto cose che veramente Potete fare Li tenete Ma se no Cancellatele Quelle che rimangono nella lista Delle cose che possiamo fare per peggiorare la situazione Ogni giorno ci mettiamo una bella X Se l'abbiamo fatta Quindi se dalla mattina alla sera Ci rendiamo conto che siamo stati davanti alla TV Alla sera Andiamo sul nostro elenco Quindi sul nostro file Se lo fate in modo digitale Ma io vi consiglio di farlo Tarte e penna Su un quaderno Da tenere sempre a portata di mano Andate a metterci una X 2X 2X 3X Ogni giorno Se l'ho fatto ogni giorno Questa cosa qui Vi renderete conto Che stare davanti alla TV Dopo i primi tre giorni Anche dopo due Anche dopo uno Sarà meno frequente Rispetto I giorni precedenti Anche come Pensate di non essere abbastanza Se l'avete pensato Dette una X Il primo giorno Il secondo Anche il quarto Il quinto Se è arrivato al quinto Vi renderete conto Che questa cosa qui Cambierà La vostra Abitudine Scrollare sui social È la stessa cosa Qualsiasi cosa Questo semplice Ma potentissimo strumento Da dove deriva? Io l'ho scoperto Da Giorgio Nardone E chi è Giorgio Nardone? È uno Un famosissimo Psicoterapeuta italiano Che ha portato In Italia E nel mondo Anche un'evoluzione Della psicoterapia Breve strategica Con Vazlavic Lui Appunto Ha creato Delle strategie Per poter Aiutare Sia le persone Che hanno Delle difficoltà Più Di salute mentale Sia anche Persone che Ogni giorno Hanno bisogno Di Cambiare vita Diciamo così Quindi Come Il come Peggiorare Non è Non lo sono inventato io Ve lo dico È dentro I libri Di Giorgio Nardone Tra cui C'erano tanti Qui Si posso Consigliare Un libro La paura Delle decisioni La paura Delle decisioni È stato uno Dei primi libri Che ho letto Di Giorgio Nardone Che si trova In libreria Ora Vediamo se lo trovo Eccolo qui Giorgio Nardone Il grande Giorgio Nardone Il libro si chiama La paura Delle decisioni Ok Questo libro Lo 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 lessi In un periodo Veramente Difficile Perché ero Completamente in crisi Al prendere De decisioni E lì Ho iniziato a scoprirlo Però Quando l'ho messo in pratica Ma l'ho messo in pratica In modo serio Dopo un po' di tempo Quando l'ho riscoperto In un percorso Che ho fatto Io con un'altra Coach Mentore Nel mio percorso di vita Che me l'ha proposto Di fare Quindi Già lo conoscevo Ma l'ha di proposto Ho detto Vabbè Segno che Funziona Ma anche lei lo considera Quindi facciamolo E lì L'ho sperimentata Molto di più In questo In questo libro Quindi potete Approfondire Il concetto Di Giorgio Nardone E chi è anche I suoi strumenti Bene qua Il problem Software strategico Fantastico Quindi Ritornando a noi Per non farla troppo lunga Il Lo strumento Quello che Il metodo Più semplice Che non ti deve sporsare Migliari di euro Oggi Per non ti devi sporsare Oggi Per attuarlo E non ti devi svenare Né andare In un seminario Di quelli Coach Fuffa Americani O Italo Americani O Americani O Italo Quelli che volete In poche parole Che ti fanno Tante pimpi mentali Per poter cambiare la vita E poi Non ti danno Le semplici cose Che ti possono già aiutare Questo Penso che È potentissimo E te lo sto Condividendo Spero che questo video Ti è piaciuto Fammi sapere Se lo farai Se hai bisogno Di approfondire Sappi che io Comunque tengo Delle consulenze Dei colloqui Degli incontri Anche dei percorsi Per freelancer Per start up Per chi Nella propria carriera Si trova in un Periodo Particolare E Vuole fare Vuole iniziare a fare Vuole superare Vuole migliorare Vuole migliorare Vuole essere Quello che è però Essere accompagnato Senza farsi troppi Pimpi mentali E restando umani E felici Se ti interessa C'è il link In descrizione Per approfondire Questo percorso Com'è Ora ti saluto Spero che Ti sia piaciuto Questo video Alla prossimo Al prossimo video Ciao